Don Franco, sentinella della luce. La festa di avvenire inizierà a Lerici con il ricordo del parroco che la fondò. Il volume è stato pubblicato dalle suore della piccola opera regina degli apostoli, cui Don Franco fu sempre molto legato e si avvale di una prefazione del cardinale Angelo Bagnasco. Sarà appunto questo l'inizio della festa di avvenire che si svolgerà a Lerici. Inizio previsto per giovedì 27 luglio alle ore 21. E a fianco musica d'organo con il maestro Carta. Parliamo sempre della serata iniziale della festa di avvenire che sarà completata nella chiesa di San Francesco dall'esecuzione di alcuni brani di musica sacra suonati all'organo appunto dal maestro Alessandro Carta. Un altro appuntamento con la musica. Il suono del tempo riparte in riviera. Tornano anche nel 2017 gli appuntamenti con il progetto dell'associazione musicale Frank, che si propone di valorizzare la musica organistica in un percorso che coinvolge alcuni significativi organi delle chiese che si trovano nel territorio della provincia della Spezia. Il castello di Lerici si colora di blu oggi e domani per dimostrare vicinanza al piccolo Charlie, il bambino britannico di dieci mesi affetto da una grave malattia mitocondriale. A centropagina Rabaioli, Spezia e lo Sport, il ricordo da parte di Egidio Banti del giornalista Paolo Rabaioli recentemente scomparso. A fianco l'estate nel golfo e nelle valli spezzine è il valore delle tante feste patronali. Trovate tutti gli appuntamenti. A fondopagina si parla delle Alpi Apuane, musica sulle Apuane, un interessante progetto di concerti che si tergono appunto in luoghi di montagna tra Toscana, Emilia e Liguria. E a fianco Cassego al termine il campo Medie e per concludere 12.000 persone aiutate dalla Caritas, tante le famiglie residenti nel territorio spezzino appunto aiutate dalla Caritas, una importante donazione a favore della Caritas di Ocesana Spezzino da parte del credito cooperativo Versilia Lunigiana e Garfagnana. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire. Grazie.